Ciao signori, oggi faccio un video per Roma Italna. Allora, Roma Italna è andata molto bene, però una cosa mia, ragazzi, la Roma ha fatto grandi cose, però lì ha cominciato a passarsi un po' la cosa, la durata, la durata di veloce, e quando l'ho vista era un po', era un po' mi ha salvato la partita, poi quando è finita, è finita uno a uno, mi è sembrato la partita, e la partita è finita così, ragazzi, con detto questo, è fazio a giocare bene, a giocare molto bene fazio, e non ha, non dirò niente a Roma, perché la Roma gioca comunque un po' bene, e di questa cosa non posso, non posso preoccuparmi, perché la Roma è, e poi le mani a, cosa, a Claudio Gagnieri, la missione, la cosa, a me è la diversa, a me è la diversa, a me è la diversa del mondo, io devo dire, bu, 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 bravo, Gagnieri, va bene, va bene, e, è stato molto bravo, e, io, questo video, va bene, ero, finito lunedì, che è questo, e, adesso, va bene, ero, finito in cuba, ciao signori!